Abbiamo una possibilità molto importante per questa città perché allo stato attuale abbiamo soltanto una struttura che però non è adatta per attività agonistica. Grazie al PNRR che però finanzia demolizione e ricostruzione potremo avere una struttura per 2000 posti che sorgerà lì dove ora sorge l'attuale struttura che invece non ha nemmeno l'agibilità per cento. Chiaramente la demolizione ha creato qualche difficoltà perché si immagina che ci sarà un momento in cui non avremo nessuna struttura. Per cui gestiremo il momento di vuoto in maniera tale che nessuno si possa sentire penalizzato. L'idea sarebbe quella di non demolire perché d'altronde noi abbiamo una tensostruttura ma smantellare e rimontare la tensostruttura magari proprio nel periodo in cui non c'è attività agonistica. In maniera tale che poi quando tutto riprenderà gli allenamenti, le sessioni di allenamenti si possono fare nella struttura rimontata altrove, non troppo distante da dove sorge ora. E poi con calma naturalmente quando poi sorgeremo il palazzetto avremo una struttura adeguata alle esigenze della città che sono decisamente cresciute nel corso di questi anni. Grazie.